Ciao ragazzi e benvenuti in questo video Oggi siamo su Fortnite Ok ragazzi Oh! Qui il joystick Ok ragazzi sono qui Prendere joystick Devo prendere joystick Questo qua Sì questo è della Playstation 4 Aspetta Ok L'aggiornamento Dal 100% E adesso Possiamo iniziare Ad entrare E al 100% ragazzi Ok 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 ragazzi Tanto qui Tanto qui dietro di me Come ben sapete C'è Bartman Da qui E ho il prosciutto di tacchino Che mangerò Finchè I miei fan Entreranno Su Fortnite In questa live Ci vediamo fra le 18 In questa live Di Fortnite Non vi dimenticate Che mercoledì E anche Non vi ricordate che Mercoledì E sabato Farei Sempre La live Su Fortnite Attento che fai cadere Il telefono Se si vede Ok Ok Si sta caricando Il caricamento Aspettiamo Ok Sta iniziando Si sono diventato forte A giocare a Fortnite Ok Premiamo qui Premuto qui Non funziona Mi sa che devo premere Ancora Ma che ha questo Fortnite? Impossibile accedere Perché E' disponibile Una nuova patch Installata La patch E riprova Spero che inizia Ok Sono entrato Su Minecraft Wow Ragazzi E' in versione Halloween Su Minecraft Ok Villa Tre Strale Villa Vabbè Se esiste Entro Dove Villa San Giovanni? Si Dal mondo Villa San Giovanni Su Minecraft Che stai mangiando? Come è la schiena E anche a me Una? Si Ok Ok Inizio a giocare Ok Allora Come sempre Ogni live Sarei Su Minecraft Poi Ok ragazzi Abbiamo trovato una casa Non ci credo Ho trovato una casa Ho trovato una casa Ho trovato una casa La macchina non esiste su Minecraft Questo Ok 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 Vado 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 Porca miseria Mi stavo per soffocare Ok 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 Ecco qui Sto arrivando Sto arrivando Ok Ok Ci consumo Tanto ragazzi Rompiamo questa cosa Tutto questo schifo Ok 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 Arrivato quasi Ok Che è arrivato quasi Arrivato quasi Così Ok, arrivo. Ok. Arrivato a una casa grande, ragazzi. Ahia, il collo. Mannaggia, cazzo. Ok, ragazzi. Ok. 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 Aiuto! 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 Ah! Ah!